Nell'ultimo consiglio comunale di Atessa si è tornato a parlare dell'ospedale e del suo futuro trovando un'intesa anche con il gruppo consigliare di minoranza del Movimento per la Tessa Unita nel quale si predisporrà un incontro pubblico con le istituzioni sanitarie per chiarire meglio e definitivamente si spera il futuro del nosocomio. Ci spiega il tutto il vice sindaco Enzo Pellegrini, quali sono i termini di questa proposta? Bene, si è partiti da un'interrogazione fatta dal Movimento per la Tessa Unita che però era un'interrogazione, una proposta di ordine del giorno totalmente contro l'ospedale di Atessa e poi siamo giunti praticamente ad una proposta unitaria più propositiva e quindi da questo punto siamo ripartiti e quindi ci siamo impegnati come amministrazione a garantire e quindi a organizzare un incontro pubblico con i responsabili amministrativi della ASL Chieti per capire bene la programmazione che la ASL sta facendo sul nostro ospedale e soprattutto fare delle proposte che coinvolgano il territorio circostante, la nostra realtà quindi uscire un po' fuori dal nostro comune semplicemente ma guardare anche a ciò che interessa l'intero territorio della ASL per quanto riguarda appunto la zona a Valle, Valliva, diciamo Val di Sangro, da Vasto che va fino a Lanciano e quindi da questo impegno scaturito nell'ultimo Consiglio Comunale ci siamo ripromessi appunto di organizzare questo incontro da dove va a far venire fuori una proposta che possa coinvolgere anche i comuni limitrofi perché guardare la sanità dal punto di vista semplicemente del comune è molto riduttivo in questi tempi quindi bisogna guardarlo guardando appunto all'intero territorio In questo senso l'apporto della minoranza spesso conflittuale stavolta potrebbe essere utile per far valere maggiormente il vostro peso? Sicuramente sì, noi siamo sempre aperti all'apporto propositivo quindi una volta che la minoranza ha abbandonato l'aspetto di contrarietà e di polemica sicuramente ci siamo trovati subito convinti e subito d'accordo su una proposta che possa essere appunto una proposta propositiva